Di nuovo buongiorno dalla redazione. In sostanza hanno confermato le loro intenzioni la Prismian di Ascoli, Piceno e Whirlpool. Indesit si sono chiusi così due incontri al Ministero dello Sviluppo Economico di ieri. Prismian ha ribadito la volontà di chiudere lo stabilimento anche rinunciando ai 32 milioni di euro di incentivi previsti per gli investimenti al sud. Amarezza per i 113 dipendenti da 70 giorni in sciopero senza stipendio che si vedono aprire la strada degli ammortizzatori sociali. Per il Piceno il ministro ha annunciato la definizione di un accordo di programma per favorire la reindustrializzazione dell'area in grave difficoltà economica. E Whirlpool non torna indietro su esuberi, 1350 lavoratori coinvolti e chiusure confermando in sostanza il piano industriale già illustrato. Su Fabriano l'azienda ha chiarito che gli investimenti verranno fatti sullo stabilimento di Melano dove con la chiusura di Albacina si concentreranno le produzioni dei piani cottura in Europa. Su ricerca e sviluppo confermati 150 esuberi tra None, Cassinetta e Fabriano. Il piano di salvataggio di Banca Marche va avanti ma richiede tempo. Lo ha detto Luciano Goffi, direttore generale dell'Istituto di Credito che Banca Italia ha posto in amministrazione straordinaria da ottobre del 2013. A Iesi, a margine della presentazione del rapporto 2014 sull'industria marchigiana, Goffi ha ricordato che nessun commissariamento è durato meno di due anni. Ha confermato che il piano di salvataggio sotto la regia di Banca Italia trova ancora la sua base nell'impegno del credito fondiario e del fondo interbancario per la tutela dei depositi. Il Festival del giornalismo culturale di Urbino tira le somme. La terza edizione va in archivio con un bilancio più che positivo. Oltre 1.500 partecipanti, grande interesse da parte del pubblico, tanti gli interventi. E già si pensa al futuro, come ci ha detto Lella Mazzoli, direttore del Festival. Le quattro giornate sono state tutte molto ricche. Devo dire che anche la formula che abbiamo scelto di dibattiti di alto livello culturale con giornalisti e scrittori e pensatori frammentati con della musica, il cinema, credo che sia una formula corretta. Io credo che l'esperienza di quest'anno, e la terza però quest'anno è stata sicuramente più ricca in un territorio più ampio, ha dimostrato che le persone hanno voglia, hanno desiderio di parlare di questi argomenti. Infatti in tanti hanno partecipato dal pubblico con domande, quindi una partecipazione vera, autentica. Quest'anno abbiamo usato una formula che ha separato i quattro media più importanti e il cinema come evento conclusivo. Il prossimo anno potrebbe essere un'idea che ci è venuta proprio da un nostro ospite di amalgamare i 4, 5, forse 6 con la fotografia, media che comunicano la cultura nel nostro paese. Potrebbe essere un'idea e potrebbe essere questo lo spunto per l'evento futuro, il quarto festival di giornalismo culturale. Riflettori puntati sulle produzioni vinicole delle Marche all'Expo 2015, dal 1 maggio alla 31 di ottobre l'Istituto Marchigiano di Tutela dei Vini, consorzio che rappresenta 800 aziende per 16 denominazioni con oltre l'82% dell'export vinicolo regionale, sarà presente al padiglione vino con una collettiva di 40 aziende e 93 etichette e con 9 degustazioni guidate in terrazza. Forte la partecipazione anche al Fuori Expo a Brera negli 11 appuntamenti dedicati all'agroalimentare regionale. E una piazza di Ascoli Piceno sarà dedicata a Roberto Strulli, l'ex portiere del Duca Ascoli, tragicamente scomparso 50 anni fa allo stadio Ballarina di San Benedetto del Tronto durante il derby con la San Benedettese in uno scontro di gioco con un avversario. La piazza nel quartiere Pennile di sotto, vicino allo stadio del Duca, sarà inaugurata sabato 2 maggio dal comune di Ascoli. Subito dopo Ascoli-Ancona, ultima partita casalinga del campionato. Giornata di derby dunque, ci sarà anche un vero frammento di luna portato dall'Apollo 17 e prestato dalla NASA per la quinta edizione di Fosforo, la festa della scienza in programma a Senigallia dall'8 al 10 maggio prossimi. Nelle piazze principali della città, stand, laboratori, incontri, spettacoli, ma anche dimostrazioni di come le innovazioni scientifiche e tecnologiche possano essere applicate efficacemente per sviluppare la piccola e micro impresa marchigiana. E dalla redazione è tutto, la linea può tornare allo studio.